Nuovo stop dei conferimenti allo stile di Battipaglia, una nuova emergenza dietro l'angolo. Ancora una volta l'impianto battipagliese è saturo al punto che Ecoambiente ha predisposto un piano di emergenza rivolto ai comuni. Sarà la società provinciale ad avvisare le amministrazioni comunali e i giorni e gli orari per poter conferire i propri rifiuti, seguendo un elenco di priorità. Quanto ai tempi per la normalizzazione della data è ancora indefinita. Preoccupazione anche per il sindaco di Ponte Cagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, che sta cercando di gestire al meglio l'emergenza, provando a fare grandi sforzi. Perché c'è carenza di infrastrutture, di impianti a Ponte Cagnano, non abbiamo un sito di trasparenza temporaneo e l'isola ecologica si ritrova in una condizione molto difficile e critica. Per frondeggiare a queste emergenze i piccoli comuni come Ponte Cagnano potrebbero ad esempio dotarsi di un minimo impianto che consentirebbe di poter tamponare la situazione. Grazie.